Benvenuti cari amici a una nuova puntata di Nel cuore delle parole oggi abbiamo il piacere di avere con noi Erika Lelfredo ciao Erika ciao a tutti Erika Lelfredo è una regista è una regista che da alcuni anni ha prodotto vari film film documentari e ha collaborato a vari progetti ultimamente abbiamo visto il suo ultimo lavoro sconfinamenti che è stato presentato al festa della montagna a Valloriate ma non soltanto questo ho anche collaborato ad un libro che è appunto La mia vita è con i parkinson sulla notte del tango Erika sei un'artista tutto tondo beh insomma più o meno ci provo diciamo che nasco come autrice mi piace scrivere raccontare storie pertanto poi trovo diversi modi per farlo anche se diciamo l'audiovisivo è quello che mi si confà di più ok allora parliamo di sconfinamenti che è stato un bel successo in quella di Valloriate è un film sulla Valle Gesso sì è un film sulla Valle Gesso nasce all'interno di un progetto che si chiama sconfinamenti progetti di reportage in Valle Gesso promosso dall'associazione culturale Contardo Ferrini di Caraglio ed è diciamo una seconda edizione perché la prima edizione è stata l'anno scorso come La Valle Ritrovata ambientato invece in Valle Grana e sia quest'anno come sconfinamenti come abbiamo fatto anche l'anno scorso abbiamo organizzato insieme al mio gruppo di lavoro che è composto dal fotografo Luca Prestia da Raffaella Simonetti di Nini Cascarle di Torino e da Giorgio Riaudo del Contardo Ferrini abbiamo organizzato un contest fotografico quest'anno in Valle Gesso invitando aperto il territorio nazionale invitando giovani fotografi a candidarsi di giovani fotografi che si sono presentato la loro candidatura ne abbiamo scelti cinque che nell'estate in particolare l'ultima settimana di giugno hanno realizzato un reportage ciascuno in Valle Gesso c'è stata una residenza d'artista di una settimana in Valle Gesso grazie alla partnership con il Parco Naturale delle Alpi Marittime cosa significa residenza d'artista? la residenza d'artista uno che sta su tutti i ponti perché gli artisti sono vagabondi la residenza d'artista diciamo è una formula di lavoro in cui si invitano dei fotografi in questo caso a risiedere proprio nella valle per cui gli si è dato un posto dove dormire dove mangiare e dove sono stati organizzati anche dei corsi e in particolare Luca Prestia poi si è occupato di loro portandoli in giro per la valle e facendogliela conoscere io ho fatto anche una residenza un giorno raccontandogli un po' le storie che lavorando al documentario nel frattempo stavo scoprendo io stessa sulla valle Gesso e poi hanno avuto anche un altro workshop diciamo più più tecnico professionale e questi lavori sono stati o sono in visione presso? i lavori sono diciamo di 5 reportage uno abbiamo selezionato un vincitore che è la Rabacchiega quest'anno del quale abbiamo esposto tutto l'intero reportage al filatoio rosso di Caraglio per gli altri 4 c'è una selezione di 10 foto ciascuna attualmente la mostra pensiamo in linea di massima fino al 6 gennaio sarà visitabile al filatoio di Caraglio ecco e anche queste fotografie come già nella valle ritrovata probabilmente saranno dentro un volume un catalogo sì che in lavorazione adesso stiamo lavorando alle bozze quindi presumibilmente dentro la fine dell'anno inizio anno prossimo ci sarà poi come è stato per l'anno scorso con la valle ritrovata anche quest'anno un catalogo cartaceo dal titolo sarà sconfinamenti percorsi di reportage in valle gesso questo sarà il titolo invece il film il film parla di sconfinamenti perché? allora il documentario parla di sconfinamenti perché trovandosi la valle gesso su confine con la Francia e avendo molte storie legate al confine ai passaggi di questo confine nel documentario ho voluto proprio raccontare quello che forse i fotografi non vivendo qua forse non riuscivano a raccontare o accogliere la differenza è che loro venendo da fuori scoprono un luogo e lo raccontano con la freschezza di uno sguardo esterno che è quello che noi come gruppo di lavoro cerchiamo sempre di vedere proprio come siamo visti da fuori certo mentre invece nel film ci sono storie tipo gli ebrei di San Martino di Usubi esatto oppure i migranti contemporanei oppure le migrazioni esterne giusto? sì esatto diciamo il documentario racconta sette storie di migrazione diciamo partendo il punto di partenza è il colle delle finestre e dove diciamo c'è un'introduzione di Gianni Sisti e Mary Baccani che sono i gestori del rifugio Soria che si trova su questa via dove nel 1943 gli ebrei in fuga da San Martino e Usubi passarono passarono alcuni da lì alcuni dal colle delle ciriegie sempre in Vallegesso per cercare una via di salvezza dopo l'8 settembre quando ci fu insomma la fuga dell'armata italiana che ritornava ovviamente in Italia decisero di seguirli molti non ce la fecero a sopravvivere nel senso che furono catturati internati a Borgo San Dalmazzo e poi quasi tutti sono morti ad Auschwitz alcuni un buon numero comunque sono stati salvati dalla gente che li ha nascosti rischiando la propria vita e noi raccontiamo questa storia c'è la testimonianza dei figli che vivono in America adesso negli Stati Uniti di quelle che erano due bambine all'epoca Kaya e Ghitta che furono nascoste e salvate da Andreina Blua in quel dì in quel dì desertetto una borgata sopra desertetto Tettifré per questo Andreina Blua venne poi bruciata la casa dai nazisti in quello stesso giorno la figlia più grande di Andreina Blua andò alla cava che era un pochino sopra casa no l'oro questa cava abbandonata dove le avevano nascoste e le portò con la neve fino alla cintola come racconta la nipote al colle dell'arpione dove poi grazie ai parroci che ci tengo a ricordarlo che fecero comunque un grandissimo lavoro per salvare più vite possibili vennero poi portati in Vaticano con documenti falsi da lì andarono in Israele e poi negli Stati Uniti dove la famiglia tuttora vivono ho capito e poi ci sono altre storie sì ci sono altre storie perché ci sono i migranti di oggi perché Valdieri ha un ottimo esempio di accoglienza dove alcuni ragazzi che sono arrivati il primo pullman è arrivato nel 2016 comunque hanno trovato un lavoro sono stati accolti e continuano e scelgono di non andare nelle grandi città o non andare in nord Europa cercare di andare in altri luoghi ma di restare qua e poi naturalmente c'è la storia della diga di Entracque e soprattutto la diga del Chiotas che è un capolavoro dell'ingegneria quindi andiamo a superare un altro tipo di confine che si trova su un confine ma supera anche i confini dell'umano di quello che si pensava non fosse possibile fare e poi ci fu in quel caso lì ci fu un'immigrazione temporale di tantissime persone c'erano circa mille persone che lavoravano e quindi anche le famiglie quindi in un momento per alcuni anni la Valle Gesù fu strapopolata assolutamente tantissimi ci sono tantissimi cognomi comunque che arrivano dal Veneto piuttosto che dal Trentino qualcuno poi è rimasto qua tanti sono rimasti qua tanti sono rimasti qua perché poi nel frattempo sono nati gli amori sono nate le famiglie per cui poi si sono fermati certo se c'è il lavoro lo spostamento è umano purtroppo è il problema dei tempi inoltre che spesso c'è l'immigrazione senza lavoro quindi questo è il problema dei problemi in questo momento poi ci sono storie anche dell'immigrazione nostra in Francia perché l'unese è stato un grande purtroppo bacino di lavoratori per la Provenza per la più ricca Provenza sia per le campagne che per la città della costa no? sì sono storie che sembrano veramente di un'altra epoca ma non è passato in realtà così tanto tempo i nostri nonni sono i nostri nonni che cercavano di là un futuro e quindi sono proprio andati e la vita era cioè vedendo i migranti di oggi non siamo stati diversi andando solo in Francia anche noi siamo stati come questi ragazzi che arrivano qua adesso sfruttati umiliati vittime anche di violenza soprattutto quando si trattava di donne e di bambine perché in realtà come viene raccontato poi nel documentario si veniva spedito in Francia da soli seguendo una via ferrata a 12-13 anni adesso sono veramente bambini pensare ai nostri figli adesso posso fare esperienze così cioè da rifletterci senza cellulare senza cellulare di cui non si sapeva magari poi per settimane se non mesi poi se uno era arrivato cosa era riuscito a fare ma la fame c'era davvero su queste montagne quindi era una non è una leggenda non è un libro non è soltanto l'anello forte o il mondo dei vinti erano cose vere quelle sono storie vere ma diciamo anche poi che la valegesta ha la particolarità di aver avuto anche Savoia e di questo anche parliamo perché per tanti anni comunque la valle Gesso è stata una valle comunque fortunata rispetto ad altre perché il re comunque portava benessere e quindi la corte la corte portava lavoro c'erano persone per tanti mesi c'era comunque un'economia ricca non dappertutto naturalmente però nei luoghi coinvolti dall'arrivo dei re c'era c'era tanto e poi aiutavano anche la popolazione in caso di comuni e dal territorio di caccia del re poi è nato il parco naturale delle Alpe Marittime che adesso preserva il lupo pensiamo al balasco era la parazione del re di caccia infatti a vedere adesso anche le foto di queste cacce con queste centinaia di camosci di camosci c'era fa un po' effetto la galera invece allora era tutto consentito non per nulla la provincia di Cuneo è stata forse l'unica provincia in cui ha vinto la monarchia nel referendum nel 46 ma perché c'era un legame affettivo ed economico sia nelle valli che nella pianura pensiamo a Racconigi ecco poi il libro racconta il documentario racconta ancora altre storie per esempio quella del rifugio in cui la moglie è una donna di colore per cui anche lei è una filippina Mary si si è arrivata qua vent'anni fa per amore e quindi e si è fermata lo gestisce lei perché il marito fa anche un altro lavoro e quindi va solo weekend e lei d'estate va sempre su ed ha un grande affezione per il posto per la valle per le storie il rifugio è? il rifugio? Soria il rifugio Soria il rifugio Soria bene assente sconfinamenti quindi la valle la valle Gesso l'anno scorso la valle la valle la valle Grano scusate si presume che proseguirà il lavoro sulle valle sì il lavoro prosegue perché questo è un progetto che speriamo possa diventare diciamo una sorta di format un qualcosa che noi possiamo ogni anno proporre in una valle diversa non anticipiamo ancora troppo sull'anno prossimo perché ancora purtroppo tutto in fase di definizione non abbiamo ancora certezze le idee ci sono già stiamo lavorando però non siamo ancora sicuri di riuscire a fare proprio cosa vorremmo quindi il poeta del domani è una ricertezza quindi per quel momento stiamo ancora un po' sul vago perché non abbiamo ancora diciamo sicurezza però i risultati finora sono stati molto buoni l'accoglimento del pubblico anche delle documentarie di queste dell'anno scorso trovo sempre di più ogni anno c'è sempre più più interesse più consapevolezza anche di abbiamo presentato il progetto la valle ritrovata al Trento Film Festival l'anno scorso come libro perché ha una sezione dedicata ai libri a Montagna Libri ed è stato un grandissimo successo abbiamo riscontrato un grandissimo interesse verso questa formula di riscoprire raccontare le valli oggi attraverso il mezzo fotografico poi anche di gente che non conosce i posti magari sia perché non conosce i posti sia forse anche perché con un momento in cui siamo molto digitali e tutti fotografano tutto in realtà poi forse un archivio vero fotografico reale di cosa c'è adesso sull'oggi forse manca paradossalmente manca soprattutto magari dato da sguardi non amatoriali ma di chi cerca e vuole raccontare un qualcosa attraverso l'immagine tutto questo poi è nato da un progetto iniziale che era quello di ripubblicare il volume di Kalscher le montagne dell'esodo pubblicato più o meno 15 anni fa dal museo della montagna questo fotografo ebreo americano che nel 62 finì per caso nelle nostre valli tra la valle grana la valle stura la valle maire fece delle fotografie straordinarie solamente riscoperte qualche anno fa appunto e questo tipo non esiste più e quindi l'idea originale era questa di pubblicare si si partiva da lì tutto nasceva da un mio documentario che è uscito nel 2015 che è la valle ritrovata da cui rinasce poi tutto questo progetto di riscoperta e di racconto attraverso l'immagine fotografica delle valli e purtroppo Clemens Kalscher ci ha lasciati all'età insomma di 97 anni quest'estate l'anno 9 di giugno è mancato ma ha lasciato una grandissima lui viveva vicino a Boston a Stockbridge questo piccolo paesino da cui lui per anni ha cercato di scappare perché voleva andare a vivere nel Vermont in montagna lì non gli piaceva più ma non ci è riuscito ma nonostante tutto è sempre stato aggrappato al sogno e quello che mi ha insegnato avendo avuto la fortuna di conoscerlo è stato proprio che non bisogna mai arrendersi nel desiderare e nell'avere sogni che comunque in ogni caso dà una botta di speranza di voglia di vivere questo me l'ha insegnato questo me l'ha insegnato di 96 anni dire che i sogni aiutano a vivere decisamente sì assolutamente lui è stato fantastico ecco e ricalizzato però alle spalle aveva già dei lavori piuttosto importanti alle spalle di questi documentari no? diciamo che tutto è nato io ho iniziato a fare questo lavoro forse un po' tardi nel senso che dopo mi sono laureata in ritardo come quasi tutti quelli che si laurano in facoltà umanistica non sono state nei tempi comunque ho fatto un master in scrittura per l'audiovisivo all'università di Torino e lì ho capito cosa volevo fare e ho fatto poi uno stage all'Aste Film che è questa casa di produzione di documentari di Torino con cui poi ho continuato a collaborare con loro ho fatto il mio primo documentario di cui sono autrice e aiuto regista perché quando ho iniziato dovevo ancora diciamo imparare a fare questo mestiere e quindi la regista è stato Stefano Tealdi che è un regista di grandissima esperienza e questo documentario è E l'Italia volò che raccontava un documentario storico che è stato ogni tanto passa su Rai Storia che racconta il nostro pioniere dell'aviazione Gianni Caproni che è stato il primo in Italia a creare un'industria aeronautica e questo documentario racconta solamente l'inizio della sua avventura quando lui costruì il suo primo aeroplano nel 1910 e seguiamo in contemporanea questo personaggio straordinario che è Mario Marangoni imprenditore trentino che ha un impero sugli pneumatici creato dal nulla che ha una grandissima passione per gli aeroplani e che ha ricostruito questo primo aereo di Gianni Caproni e ha cercato di farlo volare ricostruendolo identico come è andata l'esperienza a questo rimanderò a vedere il film al finale non lo racconto comunque Caproni fece questo primo stabilimento proprio a Malpensa esatto il nostro aeroporto di Malpensa nasce in questo prato che si chiamava all'epoca Cascina Malpensa perché c'era questa cascina abbandonata dove lui andò per fare il primo volo perché essendo lui di Trento precisamente di Arco vicino a Rovereto sul lago di Garda non aveva assolutamente nessun posto dove ci fosse un prato abbastanza grande per poter provare a decollare questo primo aeroplano e quindi cercò questo posto dove tentare fare questo primo volo e da lì oggi c'è questo grande aeroporto con un museo che è inaugurato nel 2010 proprio in occasione del centenario del primo volo il primo volo di Caproni e lì c'è conservato questo primo aereo l'originale si alzò? si alzò si alzò di qualche metro di qualche metro insomma ma fece un grande volo però era il primo e poi alzandosi fece volare i cappelli di quei che erano lì dico questo perché il secondo film che io lo vide Torino è il libro il film su Borsalino si Borsalino un legamento assurdo tra il volo con i cappelli il fatto che appunto Erika Lelfreddo è coautrice di un bellissimo film Borsalino Borsalino City City Borsalino City racconta la storia esiste in due versioni una versione più lunga che è Borsalino City una versione televisiva che è Borsalino un cappello Hollywood dove abbiamo concentrato diciamo la narrazione sul rapporto tra il cappello e il cinema questo è stato un film molto importante che abbiamo lavorato per tanti anni insieme alle due coautrici che sono Erika Viola e Paola Rota abbiamo lavorato per anni a questo documentario che ha avuto comunque un riscontro internazionale incredibile perché davvero il cappello Borsalino è nell'immaginario è entrato nel dizionario come sinonimo di cappello elegante di un certo tipo di cappello il fedora quello di Humphrey Bogart e il borsalino un marchio è diventato un tipo di cappello c'è persino il titolo di un film Borsalino sui guest penso Marsiglieri mi sembra abbiamo avuto anche la fortuna di avere Robert Redford tra gli intervistati nel film e dici poco per cui è stata diciamo una bellissima esperienza una bellissima storia perché la storia di un'industria familiare noi raccontiamo la storia fino a quando c'è stata la famiglia arriviamo al momento in cui poi dopo la famiglia l'ha venduto per cui non raccontiamo quello che è successo negli ultimi anni che drammaticamente forse un po' tutti sanno continuo saliscendi continuo saliscendi di questa azienda che purtroppo il cappello diciamo la modernità ha fatto sì che il cappello perdesse la sua funzione noi guardiamo le fotografie documentali fino al 1950 tutte erano il cappello oggi quasi più nessuno ce l'ha e questo è simbolo del cambiamento degli usi dei costumi ma soprattutto dell'arrivo del benessere e soprattutto dell'automobile perché nel momento in cui è arrivata l'automobile il cappello è andato in disuso perché era scomodo scomodo e non serveva più prima serviva per tenersi caldo ripararsi dal sole dal freddo e dopo non serve più e se tu vai in automobile col cappello in pie modo in pari notte dove uno non sa guidare quindi non conviene avercela quel film veramente è un film devo dire l'ho visto veramente molto molto bello fa tristezza pensare che questo marchio italiano così affermato nel mondo così unanimamente amato nel mondo non esiste più anche per se è in mani straniella Fabri ma adesso in realtà forse è passata se non sono più cambiate le cose in mano a questo imprenditore svizzero che ha cercato in tutti i modi di salvarla e forse adesso ci è riuscito però c'è la scena del film quando crolla fanno crollare la ciminiera quello è veramente simbolo quello è stato un momento simbolo perché la città di Alessandra la Borsalino era nella città di Alessandra è crollato proprio il simbolo della città perché la Borsalino teneva proprio il ritmo anche della città con queste con le campane dell'inizio dei turni è stato proprio la fine di un'era e la fine di un'immagine di una città che ha visto diciamo morire il suo simbolo per fare un parcheggio di un supermercato questa forse è il classico anche di quell'epoca dove forse non si riusciva a capire anche il valore di certe opere industriali certo la famosa ecologia industriale quindi oggi ma è troppo tardi quando i buoi sono scappati si chiude il recinto ma i buoi sono scappati bene il tempo è trascorso velocemente perché come Erika possiamo parlare di infinite cose perché davvero è una non bugianè perché si dà molto da fare tra curare libri e girare documentari e auguriamo Erika di continuare nel suo lavoro non facile perché si è sempre a caccia di soldi presumo sì non è semplice è abbastanza complesso perché girare perché ricordiamo che è anche in progetto il film sul tango riguardante il libro e la storia di il tango della vita sì diciamo che è complementare al libro fondamentalmente ne parleremo in un'altra occasione grazie Erika grazie a te grazie a tutti voi e alla prossima puntata ancora delle parole con i libri con le immagini con i documentari con delle belle storie da da sentire da vedere da leggere arrivederci a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti